5 motivi per regalare a Natale il pacchetto Nuovo Ordine Mondiale che comprende la prima parte dell'inchiesta Il Cartello Finanziario ed il libro Il Diego Rivoluzionario Allora, prima di tutto sono due libri che insieme formano l'inchiesta più completa per capire le operazioni clandestine della CIA in funzione anticomunista che sono state svolte sia in Italia che in Sud America funzionali al progetto di ordine mondiale a guida USA Ragione numero 2 Raccontano eventi apparentemente molto diversi tra di loro ma che in realtà hanno gli stessi mandanti e questo rende chiaro a tutti la presenza di un vero e proprio cartello che ha agito su più fronti e in più paesi Ragione numero 3 Il case study che viene raccontato ossia il caso di Diego Armando Maradona squalificato ai mondiali USA 94 per i suoi strettissimi rapporti con i leader socialisti e con Fidel Castro rappresenta l'esempio più eclatante di come agissero questi poteri nei due lati dell'oceano Maradona infatti fu squalificato prima in Italia e poi negli Stati Uniti finendo nel milino delle operazioni anticomuniste tanto in Italia quanto in Sud America questo per aver giurato fedeltà alla causa rivoluzionaria e antiimperialista Ragione numero 4 Il cartello finanziario fornisce ai lettori tutti gli strumenti per capire le scelte attuali dei governi che si sono susseguiti in Italia e perché esse siano eterodirette dagli USA dal dopoguerra fino ad oggi Ragione numero 5 le due inchieste sono assolutamente complementari per avere un quadro completo di quello che potrebbe succedere ai governi o ai personaggi che tentano di ostacolare il progetto di ordine mondiale unipolare due libri che tracciano eventi della storia moderna ma che in realtà servono per capire gli eventi futuri pacchetto nuovo ordine mondiale il cartello finanziario prima parte e il Diego rivoluzionario